ma salve ragazzacci scusate per la intro molto cringe quale è stata l'ultima volta che ho fatto questo format? sicuramente qualche giorno fa ma chi si referà perchè è sempre bello portarlo vabbò dai, è sempre qualcosa di incredibile portarlo domani ragazzi ho deciso di riscaricherò StumbleGuys l'ho disinstallato perchè ero diciamo in un periodo dove le partite le giocavo peggio del Verona contro il Napoli la battutona che c'è in home ma comunque comunque è sempre bello il gioco dei correlati per chi lo sa cos'è il gioco dei correlati in pratica tu prendi un argomento poi devi prenderne un altro che non c'entra niente con l'argomento che hai preso e dai correlati che ti appaggiano a destra dopo il video devi arrivare a quell'argomento allora il primo il primo è ispirato in un commento sotto un video dei correlati di Fabi J dagli ASMR ad Eminem tanto lo sappiamo tutti guarda questa qua la speed run cioè veramente ragazzi la sto chi se ne frega perchè tanto perchè in prega basta solamente che vai sulla musica il primo video che anzi io direi di uscire ok usiamo questo live il nostro primo click mo sicuramente ho fatto la ho fatto una cazzata la cazzata più grande di sempre ok ok c'è Abby non lo so se Spider-Man mi potrebbe però portare alla musica cacchio cacchio cosa prendiamo per musica tiktok ragazzi se troviamo una proprio la prima Stranger Things che dai Metallica forse poi apriamo un pattern che ci un pattern che si mi non lo so però se con Stranger Things mi porta ai Metallica perchè poi potrei fare un pattern che mi porta gli iNub non sono buoni per poter arrivare alla musica cazzo ragazzi è in realtà semplice perchè devi solamente trovare la prima cosa che è collegata alla musica io direi di passare dai Pantellas mia madre siamo al secondo video i Pantellas dai adesso troviamo una loro parodia a caso e se vola proprio se proprio vola mio dio sto video sto video l'ho messo anche in la battaglia contro il capo supremo quel quel cacchio di film che che letteralmente ho ho forgiato io che cacchio vado a già finire i correre ragazzi abbiamo già finito i correre terzo video che clicchiamo terzo video che clicchiamo non lo so se questo è effettivamente buono per poter poi arrivare al rap doveva arrivare a quello americano come faccio ad andare a quello americano tormentone dance che cacchio no ragazzi ok da sto qua forse ci possiamo ci possiamo avere possiamo arrivare possiamo creare un partner 5 video 5 video adesso ci rimane mo lo troviamo Eminem cioè siamo a 5 video se no andiamo da da che ne so da altrimenti andiamo da Gangstas Paradise se non lo troviamo forse lo troviamo già attenzione che forse lo troviamo già Eminem 6 video 6 video per arrivare da gli ASMR ad Eminem ragazzi turn down for what proprio proprio incredibile 6 video per poter arrivare da questo cioè ragazzi nemmeno lo taglio sta 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 run cioè non lo so se farò se farò tagli ma comunque la prossima che facciamo io direi di non fare niente con la musica perché perché lo sappiamo tutti che la musica è strafacile ragazzi i tempi no ragazzi adesso abbiamo prima autostrada no ragazzi adesso facciamo una allora dobbiamo arrivare dalla Salerno Reggio Calabria dalla Salerno Reggio Calabria a Lion abbiamo deciso dalla Salerno Reggio Calabria a Lion no boh non lo so perché perché io sto facendo cioè in realtà non lo so ragazzi perché io sono lo sapete che io sono di Salerno e tutto sto sto cosa e non ne faccio in realtà non ne faccio nemmeno una con me perché lo sapete tutti che per arrivare a me devi proprio devi usare attori che hanno doppiato un loro personaggio in più lingue ok però watchmojo dove arrivare al gaming qual è una cosa di gaming ok ma che tanto primo video che clicchiamo sono i two player one console ragazzi la la speedrun proprio cioè cioè adesso qua in alto in alto a in alto a sinistra voglio quello speedrunner quello speedrunner vabbò quello là che fa tipo scrive tipo vabbò quella lopa là come come non dai ah vedo due video ragazzi due video per arrivare dalla salerno reggio calabria a lion poi cos'è questo video porto i miei amici sulle backrooms su roblox cos'è sta a me benvenuti nelle backrooms su roblox oggi qui il caio io no 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 mio dio sto video ah facciamo qualcosa facciamo qualcosa con favij come l'ho detto con un francesismo in gribble facciamo da favij ho sapevo cosa fare da favij a johnsina non lo so perché io lo sto stia facendo ecco da favij a johnsina mo sicuramente staranno la anzi però però prendiamo un video vecchio un video dove dove non lo seguivo nemmeno che mi son riguardato per quando non lo so ma non così veloce ma non ragazzi uno 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 no questo non vale dobbiamo arrivare ad un incontro di johnsina che tal anche con l'incontro di johnsina abbiamo comunque vinto ragazzi in due video ragazzi lo contiamo come i due video perché non perché dovevo arrivare ad un incontro perché preferisco andarci ragazzi oggi oggi si speedrun a tutto facciamo qualcosa di americano ragazzi non lo so che cosa fare arriviamo da non facciamo le backrooms perché le backrooms le ho tipo fatte hello hello ok allora facciamo qualcosa di americano io direi di andare da questo video qua allora questo video qua dobbiamo arrivare ai mondiali 2006 ok primo video che clicchiamo vedo già il calcio no ovviamente no questo è il primo video che clicchiamo scusate ragazzi scusate ok 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 primo video che clicchiamo ragazzi lo facciamo zidane ragazzi mo con zidane si vola c'è ragazzi mo con mo con zidane si vola forse ho fatto ho fatto una cazzata infatti sto consigliando fifa e tutte queste cose forse ok 2006 cazzo non c'è una ricorrispondenza forse in realtà ho fatto una cavolata bo ho fatto una cavolata grande quanto quanto bo forse potrei anche arrivare però agli europei tipo ma voglio dire di andare a sta cosa che non so cosa potrebbe essere sta sta me dai col calcio me lo devo ritrovare forse devo arrivare a non è che devo forse se arrivo forse posso anche prendere il video di di Mike Showsha sui mondiali 2006 però attenzione ragazzi io sto solamente sprecando in realtà tempo ragazzi consiglia solamente dovrebbe andare tipo mi sconsiglia solo video tipo uscrim lulus irl La conosco L'ho vista Quinto click letteralmente Ho visto la coppa dei mondiali Adesso me lo devi trovare Subito Ma proprio subito 6 click Per poter arrivare Da Che video era Da tipo un video Che mi sono beccato i rob Sugli effetti speciali dei film A il mondiale 2006 Ragazzi Sto video può dirsi bello che è concluso Sono riuscito anche a farlo durare Come un mio video Normale Ci vediamo